Approvata all'unanimità dalla terza commissione consigliare di Palazzo Cesaroni la proposta di legge del consigliere Oliviero Dottorini sulle discipline del benessere e bionaturali, pratiche che tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi e elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui tali discipline sono sorte e si sono sviluppate. Si prevede l'istituzione di un elenco regionale ricognitivo degli operatori e anche dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali nonché la creazione di reti del benessere. Previsto anche un comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali composto dall'assessore competente, rappresentanti delle reti del benessere, un dirigente della struttura regionale competente al welfare e uno di quella competente alla formazione professionale, un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Questo comitato individua i requisiti, gli standard qualitativi degli operatori e regole di comportamento uniformi. Le attività del comitato saranno svolte a titolo gratuito con risorse umane e finanziarie già a disposizione mentre gli oneri per demarcare la certificazione di qualità saranno a carico dei soggetti interessati.